Ah, che bella! Buongiorno, buongiorno, come sta lei oggi? Bene, bene, anzi, che mi dice? Dottoressa, una domanda, dimmi, come mai il mio parto è durato così tanto? Allora signora, ti spiego, la sua gravidanza è durata più di normale, perché il suo figlio è nato molto più grande. Oh, che amore! Posso vederlo? Pasqualino? Pasqualino? Sì, sicuro avrei visto. Sì, sì. Pasqualino? Sì! Vieni, chi la mamma vorrei vederti! Sì, sì, arrivo subito, è lui! Mamma, dicchemi, ma don casa, ma tu, tanto sei a sud? Ma dici, no, eh? Fatto male? Ma faccio! Mamma, Pasqualino vuole latte. Latte? Io Pasqualino vuole latte. Pasqualino? Alla latte a riusci? E quanti litri? Dove hai due litri? Quattro litri? Bidudu! Vado, 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 latte Pasqualino, latte, latte! Vado, vado. Vado, 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 vado. Vado. Vado... Vado ovviamente.